Cultura ed editoria al tempo del Covid, questo è il titolo della diciottesima puntata di Napoli Capitale, salve a tutti, sempre in compagnia di Gianni Lepre. Oggi ci è venuto a trovare Diego Guida, editore, presidente nazionale dei piccoli editori. Se nella volta precedente insieme al rettore Lorito abbiamo parlato della cultura in senso universitario, oggi parleremo della cultura e dell'editoria, l'editoria libraria, quella che è la tradizione, la massima tradizione culturale italiana. La cultura è nei libri, lo è sempre stata e lo sarà per sempre, nonostante l'iTechnology che ci contraddistingue oggi. Io comincerei direttamente con una storia centenaria che è quella delle edizioni Guida, un secolo di storia. Diego Guida, sempre work in progress con la tua casa editrice, non si finisce mai di imparare ma soprattutto non si finisce mai di sfornare libri. Aggiungo non si finisce mai di studiare perché per riuscire ad aggiungere anche dei risultati significativi, mi riferisco a quello nostro di imprese che ti ringrazio di aver voluto ricordare, cioè cento anni di storia, significa ovviamente un retroterra culturale, imprenditoriale alle spalle di tre generazioni, io rappresento la terza generazione, che vuole essere comunque sempre attenta non solo alle variazioni, alle modifiche del mercato e quindi di quanto per il libro possa essere cambiata la procedura, le metodologie, le modalità di raggiungere il pubblico e dei lettori, ma anche sulle metodologie di produzione vera e propria. Io amo ricordare che il nonno quando nel 1920 cominciò la sua attività la cominciò con un banchetto circolante, una sorta di bancarella la chiameremo oggi, era una biblioteca circolante, lui noleggiava un libro ad un centesimo a settimana e lo portava a casa dei richiedenti, una sorta di Amazon antelitteram in fondo se vogliamo, ha inventato tra virgolette una consegna a domicilio che oggi viene utilizzata in metodi ovviamente completamente diversi e con la tecnologia alle spalle, però questo per dire che nulla si crea dal nulla, ma bisogna essere invece al passo con i tempi e seguire diciamo le novità del mercato e della metodologia per raggiungere più lettori possibili, nel caso mio che facendo libri sono interessato a raggiungere più lettori possibili, ma basta essere al passo con i tempi. Hai citato Amazon che oggi vi sta bastonando in una maniera incredibile, noi prima di parlare di quello andiamo dall'economista perché devo fargli la classica domanda, ma quanto vale economicamente oggi l'industria libraria? Perché non vale, non ha quel valore intrinseco che dovrebbe avere? Diciamo che la cultura in effetti a me è stata sempre bistrattata, anche lo Stato ha dedicato sempre meno fondi alla cultura, vediamo tra le altre cose, ecco non conosco bene le percentuali, ma quante librerie negli ultimi anni hanno cessato l'attività? Questo perché? Perché praticamente non hanno ricevuto supporto dallo Stato, non hanno, lo Stato come al solito manda, spesso dico io, dei messaggi sbagliati, come se la cultura non contasse niente, noi lo stiamo vedendo e vivendo proprio in questi giorni con la scuola, in effetti si pensa di risolvere tutte le problematiche, in DAD non è così, ahimè queste cose dal punto di vista prospettico le pagheremo tanto perché in effetti non mi si venga a dire che lo studio a distanza possa essere equiparato allo studio in classe dove comunque c'è, come devo dire, tra l'insegnante e lo studente c'è comunque un colloquio, ci sono delle domande dirette, c'è una partecipazione diretta, quando lo studente è assente dal punto di vista mentale l'insegnante lo riprende, oggi purtroppo dobbiamo dire con questa DAD che è la didattica a distanza, tutto questo purtroppo non c'è e io penso che ne pagheremo le conseguenze, ne pagheremo le conseguenze ed è questo grave perché praticamente con la cultura, con l'istruzione in effetti praticamente si costruisce il paese al meglio, probabilmente, anzi non io toglierei il probabilmente il nostro paese che come diciamo spesso e anche perché è un'evidenza da settima potenza europea, mondiale, oggi siamo forse tra gli ultimi posti in Europa e questo purtroppo anche perché non abbiamo coltivato la cultura. Ecco Diego, entriamo nel problema della situazione, lo tsunami covid ha fatto tanti di quei danni che sono incalcolabili, uno di questi è quello proprio relativamente alla cultura e all'editoria, quella libraria, oggi lo stavamo dicendo prima tra Amazon e tutti i colossi del web che si stanno vendendo di tutto, è tornato addirittura di moda l'ebook che era un po' sparito, trasfumature Kindle, Whatpad, ma che sta succedendo? Una rivoluzione vera, una rivoluzione non solo digitale ma anche proprio culturale, propriamente detta. Nel periodo dell'ocodanno dell'anno scorso, di questi mesi, marzo, aprile e maggio, noi abbiamo avuto un crollo verticale ovviamente sia di vendite che di aperture perché eravamo chiusi tutti, quindi oltre il 98% di perdite secche sul fatturato rispetto all'anno precedente, che si è un po' salvato ed è questa stata in fondo la battaglia poi successiva che abbiamo dovuto combattere, come comparto, si è un po' salvata per le vendite online. Ma questo non è affatto altro che drogare il mercato e drogare ovviamente anche i bilanci di ognuno di noi, perché è vero che magari ecco una casa editrice vendendo online ha venduto direttamente senza l'intermediazione dei vari passaggi nella promozione e della distribuzione. Ha dovuto pagare lo scotto ad Amazon. Ha dovuto pagare lo scotto ad Amazon che ha preteso sconti più alti, ma ha incancredito dalle situazioni già difficili economicamente parlando di tutti i player di filiera. Se la libreria chiude noi editori a chi vendiamo direttamente e se avessimo una capacità anche tecnologica di raggiungere tutto il pubblico potrebbe anche avere un senso, ma questo è impossibile, non possiamo assolutamente immaginare che vengano a scomparire alcune intermediazioni del nostro lavoro e quindi della nostra professione e per il nostro prodotto. Se non abbiamo fisicamente il promotore che entra nelle librerie e convince il libraio della bontà di un determinato libro, ma lasciamo tutto agli algoritmi online e digitali, drogiamo completamente il mercato. Che cosa venderà di più? Il libro del piccolo editore napoletano o la grande produzione che chissà poi che tipo di qualità possa mai avere, di un grande colosso industriale piuttosto che editoriale puro, che evidentemente ha più connessioni con queste aziende digitali. È importante, come diceva prima il dottore Lepre, è importante che si abbia coscienza e conoscenza che questo comparto della cultura è l'unico comparto che può far crescere non solo intellettualmente il nostro territorio e quindi i nostri giovani, il nostro popolo di lettori, ma che li fa crescere anche inevitabilmente e anche socialmente, perché la crescita sociale è strettamente connessa alla crescita culturale. Io ho raccolto qui una frase incredibile che disse due anni fa Francoforte, l'allora direttore della commissione, anzi la commissaria europea titolare della direzione Info Society, disse io vengo qui a vedere da voi a Francoforte il mondo del Dusty Books. Alla fine, dopo aver girato Francoforte, la più grande fiera internazionale mondiale probabilmente, dei scambi di diritti internazionali degli editori, racconta che finisce uscendo, non credevo di incontrare così tanta innovazione visitando una fiera del libro cartaceo, questa la dice lunga secondo me, perché vuol dire effettivamente quanta prospettiva c'è in questo nostro comparto che evidentemente è poco conosciuta perché manca la cultura, come diceva il professor Lepre. Ecco Gianni, una volta un ministro della Repubblica ebbe a dire che con la cultura non si mangia, però non diciamo chi è stato perché è inutile, ma il problema è un altro, il fatto che con la cultura non si mangia sta continuando ad andare avanti perché nel recovery plan che noi abbiamo visto un po' quella che è la bozza, penso che sia pure quella definitiva, ma non ci sta tutta questa grande liquidità rivolta alla grande tradizione culturale italiana. Nel modo più assoluto e questo come detto è molto grave perché va praticamente a penalizzare quella, soprattutto a parte non parliamo della cultura di noi persone adulte che è altrettanto importante, ci sono persone che venute da zero man mano anche culturalmente si sono evolute, magari sono persone che sono arrivate a certe vette pur partendo da zero, perché? Perché nel frattempo hanno studiato, hanno letto, hanno sentito e quindi praticamente è importante che la cultura abbia un peso specifico perché è attraverso la cultura che noi andremo a formare i nostri dirigenti di domani, i nostri manager di domani, ovviamente minore intensità culturale avranno e peggiore sarà la posizione dell'Italia nell'ambito mondiale. Ecco Diego, prima di lasciarci per la pausa pubblicitaria, ma la situazione diciamo di questa di questa evoluzione per quanto riguarda le edizioni librarie, oggi in maniera particolare che con lo tsunami del Covid, con i lockdown diciamo abbastanza insensati, come stiamo oggi messi? Ora siamo in una fase di interlocuzione con il mercato e con noi stessi, per esempio un dato interessante è stato quello del periodo di chiusura delle zone rosse del lockdown relativa ai libri universitari, perché stranamente non essendoci più frequentazione delle università e quindi delle facoltà dei ragazzi che si incontrano fra di loro, il mercato dell'usato è praticamente crollato, il mercato delle fotocopie è praticamente crollato, per cui tutti gli editori che hanno in catalogo volumi di adozione con adozione universitaria hanno trovato, diciamo hanno visto una luce in fondo al tunnel, ovviamente sono cose parve materia, però ci danno il segnale di quanto invece si possa intervenire per debellare la pirateria, per avere l'attenzione al copyright, ecco oggi sappiamo che la settimana scorsa il governo italiano ha recepito la direttiva europea per il rispetto del copyright, quanto è giusto copiare e non copiare? Ci fermiamo e continuiamo dopo perché deve andare la pubblicità, un minuto di pubblicità, restate con noi. Torniamo in studio, Diego stavamo parlando di fatturate, è una cosa che interessa abbastanza tutti i nostri telespettatori e radioascoltatori di Radio Amore. Sì, questo è un tema particolarmente strano, nel senso che non tutti ci aspettiamo questi numeri che adesso freddamente vi voglio leggere, parliamo ovviamente dell'anno 2019, diciamo pre-Covid e quindi pre-tsunami economico e finanziario per tutte le imprese del mondo. Ecco, io ho raccolto qui con il nostro ufficio studi dell'AIE, l'Associazione Terreno Editori di Intese con Instat, noi abbiamo che il fatturato anno intero dell'intero comparto per la musica non raggiungeva i 250 milioni di euro, il teatro non raggiungeva i 400 milioni, i games superavano di poco il miliardo e cento, i canoni della TV arrivavano intorno a un miliardo e otto e, udite e udite, il fatturato complessivo del mondo dei libri è 3 miliardi e 200 milioni, il che significa che obiettivamente e concretamente è il comparto culturale maggiormente interessante per una crescita culturale del paese e quindi obiettivamente il libro è il più straordinario vettore di trasmissione di cultura e di conoscenza che noi abbiamo a disposizione. A dispetto di tutti gli online, i web e tutte queste cose, il libro cartaceo rappresenta ancora il caposaldo del trasferimento culturale della conoscenza. Ecco Diego, prima di passare la parola all'economista, io volevo capire una cosa perché è una curiosità e penso di interpretare la curiosità di tutti quelli che ci stanno guardando ed ascoltando, ma se continuiamo in questo modo, con la DAD, come diceva Gianni prima, ma i libri che fine fanno? Se tutto dobbiamo farlo a distanza, online, il libro ti carta, quello che noi abbiamo sempre sfogliato, sottolineato con la matita o con qualsiasi cosa, che fine fa? Beh, probabilmente bisognerà ripensare proprio tutto il sistema dell'istruzione, già nel mondo universitario esiste il sistema del common creative common, cioè ognuno di noi scrive un articolo purché venga riconosciuto o un capitolo, diciamo, su un determinato argomento che viene ad assommarsi a quelli di chi ha scritto prima per rendere di patrimonio comune, diciamo così, una ricerca scientifica e quindi un primo risultato che può diventare un secondo e un terzo a seconda dei contributori. Questo naturalmente significa ammazzare il libro cartaceo, è fuori dubbio, così come è morto il settore delle riviste scientifiche, una volta erano le riviste scientifiche le cartacee che davano contezza delle ricerche scientifiche, oggi il cartaceo non esiste praticamente più nell'ambito della rivista, diciamo, universitaria, ma soprattutto la rivista di alta tecnologia di prodotto, diciamo. E quindi alla stessa maniera il mondo universitario è già praticamente crollato, la scolastica si sta salvando, giusto perché è ancora incerto tutto il comparto tra i rappresentanti, i venditori, i distributori, i professori, è ancora molto complicato. Formare una classe di docenti che è in grado di tenere una lezione in aula senza il libro cartaceo è molto difficile, significa cambiare radicalmente proprio un modo culturale di intendere la scuola. Ma è quello che è certo che scolastiche universitarie, come noi le chiamiamo in termini tecnico, andranno certamente a ridursi e a diminuirsi. Tra l'altro lo vediamo nei paesi anglosassoni, ad esempio i libri di scuola vengono offerti direttamente ai ragazzi all'atto delle iscrizioni, quindi cambia completamente lo scenario commerciale e industriale e imprenditoriale in questo tipo di settore. Quello che resterà certamente sempre eterno, dico io, lo spero, ma anche le bolle internet degli anni 80, piuttosto che di questi ultimi anni del cosiddetto ebook e del libro digitale ci hanno dimostrato che più del 4-5% del mercato non si riesce a raggiungere, parlo a livello globale di una percentuale, a livello globale non solo nel caso Italia, e il libro di lettura che resta il più straordinario strumento per viaggiare con la fantasia e che quindi non potrà scomparire. Gianni, praticamente da quello che abbiamo capito la cultura sta facendo un po' la fine dell'economia. l'economia già è una materia spersonalizzata al 100%, poi è quasi esclusivamente matematica, la cultura sta diventando la stessa cosa. La cultura in effetti, come detto, sta pagando le conseguenze di come lo Stato manda i messaggi, l'ho detto già prima, tra le altre cose, a parte gli investimenti nella cultura, noi ancora una volta vediamo che un comparto che è in grande crisi, ma che comunque prospetticamente è quello che può dare la cultura ai nostri futuri governanti, non è tenuta conto, non ne ha aiutata, tra le altre cose come sempre io dico lo Stato è forte con i deboli e debole con i forti, perché poi tutto sommato loro stanno ricevendo la concorrenza dei grandi colossi del web, tutti quanti sanno che i grandi colossi del web scontano una tassazione al 3%, una statistica ci ha detto che negli ultimi 5 anni, dal 2015 al 2019, i colossi del web in Italia, parlo, hanno risparmiato ben 45 miliardi di tasse. Ebbene, ovviamente se noi andiamo a considerare, è vero che il libro paga un'IVA, sconta un'IVA ridotta, però la tassazione, quindi l'IRPEF a cui viene sottoposta una casa editrice è sempre la stessa, quella del 30-35% e loro dicevano la concorrenza di chi? Già essendo forti diventano ancora più forti perché lo Stato gli dà la possibilità di pagare il 3% di tasse. Si va alla distruzione, noi siamo degli autolesionisti praticamente qui da noi, ecco l'esterofilia in effetti paga sempre e non viene, io in questo senso sono sovranista, è bene che si sappia, per me veniamo prima noi e poi gli altri. Ecco Diego, ripartiamo da questa situazione perché volevo chiederti un'altra cosa che è sempre una curiosità ed interpreto la curiosità di tutti quelli che ci stanno guardando e ascoltando, ma tuo nonno nel 1920 si sarebbe mai aspettato la DAD per esempio? Oppure che i libri non li sfogliava più nessuno? O che l'industria libraria scolastica spariva completamente? Voi avete vissuto sull'industria dei libri scolastici? Sì, sicuramente l'abbiamo vissuto e siamo cresciuti in questo modo, quando la scuola rappresentava gran parte del fatturato di tutte le librerie napoletane, di fatti questa crisi della scolastica e dell'università era rappresentata anche la chiusura di tantissime sigle, diciamo commerciale, librarie, sia sul territorio napoletano che su tutto il territorio meridionale, perché purtroppo, come diceva giustamente il professore prima e mi ha fatto venire la pelle d'oca, noi rappresentiamo non più del 5% del mercato editoriale qui a Napoli, in Campania, contro il 22% che viene rappresentata dalla Lombardia e dal 16% nel Lazio, quasi per dare una sorta di fascia nord-sud e centro, quindi teoricamente sarebbe un mercato, una prateria per chi avesse quella capacità lungimirante di capire che c'è un mercato, ci sono abitanti, ci sono potenziali elettori, perché non si investe in un territorio del genere e perché ci si lascia abbandonare e quindi chiudere anche una serie di attività di realtà importanti che hanno rappresentato e che potevano continuare a rappresentare, perché forse c'è una miopia di attenzione verso determinati compatti, perché ritorniamo alla battuta di prima che purtroppo resta evidentemente sempre valida, di cultura non si mangia, ma è questo che va scardinato e che è questo che noi speriamo anche con l'aiuto di economisti che sappiano rappresentare queste nostre istanze che non sono poi istanze personali, perché tu hai raccontato i cento anni di storia, io diciamo leziosamente me ne gongolo, però mi permetterei di dire senza diciamo timore di apparire borioso, che non sono cento anni di storia della sola guida, sono cento anni di storia di tutto il territorio napoletano che ha goduto e ha vissuto e ha organizzato e ha raccolto ed ha accolto intellettuali che sono venuti in cento anni su Napoli, che sono venuti così per avventura perché invitati da guida, ma perché evidentemente vedevano in Napoli un mercato, un'attenzione, una potenzialità, è questo che è sparito purtroppo oggi che tocca a noi della terza generazione dopo cento anni che ci dobbiamo inventare, dad, io ho dei numeri di dad che fanno tremare i polsi, per quanta attenzione c'è su questo, ma invece dobbiamo ricercare di tornare al rapporto in presenza, cercare di valorizzarlo non con i metodi di prima, ma con un criterio, un sistema nuovo che nonno non poteva immaginarlo cent'anni fa e che noi ancora oggi purtroppo non credo che siamo in grado di poter immaginare. Noi partiamo con il Salone del Libro dal primo, il 2, il 3, il 4 luglio al Palazzo Reale, sotto i porticati, all'aperto, vediamo, di riattivare un po' di attenzione verso questi temi, incrociamo le dita. Ecco Gianni, un minuto e mezzo ci resta, che cosa ci attende sotto questo aspetto, l'aspetto Io facevo una riflessione prima quando Diego parlava di dad e ovviamente riflettevo anche sullo smart working che è tanto osannato in questo momento, io non lo so, io ho l'impressione che chi osanna lo smart working non abbia percezione di quello che succede tutti i giorni alle persone che hanno contatti con gli uffici pubblici e io lo posso dire nell'ambito della mia professione quando c'è chi lavora a distanza, in effetti i nostri tempi burocratici per ottenere un'autorizzazione, per avere un colloquio, per cercare di capire una pratica a che punto sta, questi tempi si sono decuplicati per cui come si fa a, ecco, ancora una volta a fare la DAD o a fare il lavoro a distanza senza tenere conto delle problematiche che tutte queste cose danno, anche e soprattutto dal punto di vista economico perché parliamo di un'azienda che si deve approcciare, deve iniziare un'attività, se prima lo faceva in sei mesi oggi ci impiega un anno, naturalmente è anche lo Stato che ci perde perché quell'impresa che impiega un anno per iniziare l'attività naturalmente non paga le tasse, non assume e quindi i costi sociali Il nostro tempo è finito, ringrazio Gianni Lepre per stare sempre sul filo del rasoio con i suoi ragionamenti ringrazio Diego Guida per essere stato con noi, ringrazio tutti voi, telespettatori e radioascoltatori di Radio Amore per essere sempre insieme a noi, alla prossima puntata, arrivederci